Io non voglio scendere nella comunicazione del tipo questa squadra se perde queste due partite, non voglio dar pressione perché è un ambiente che dà tanta pressione alla squadra e invece secondo me non è così. Noi siamo stati molto bravi ad alzare le aspettative con un inizio di stagione incredibile, però le squadre che ci precedono in classifica oggi sono squadre di assoluto valore e con un organico onestamente superiore al nostro e quindi la classifica non va guardata. Sogniamo di rosicchiare, di guadagnare qualche posizione in classifica alle grandi, è il nostro obiettivo, è il nostro grande sforzo come squadra, come gruppo squadra, ma le squadre che ci precedono onestamente sono squadre molto forti e non parlo dei 11 titolari ma parlo della rosa a completo. Il modulo 3-5-2 o il modulo 3-4-1-2 è un modulo che conosciamo bene perché in questa categoria l'80% delle squadre gioca in quella maniera e quindi a livello tattico la partita è stata preparata, ma alla fine quello che farà la differenza saranno i singoli. Il Catania ha una fase offensiva, un reparto offensivo di grandissimo valore, probabilmente secondo me uno dei migliori del campionato a livello della Ternana e a livello del Bari. Questo non deve spaventarci perché abbiamo difensori forti e la partita va giocata, lì dove possiamo migliorare secondo me, lì dove possiamo essere più efficaci. Nell'avere pazienza e far costruire l'azione ai difensori senza abbassarci troppo per affollare un po' di più l'area di rigore, perché l'attaccante solo in area contro tre i difensori non fa niente, questo lo sappiamo. Dovremo andare a Catania con personalità e giocare la partita, giocarcela, mantenere le posizioni alte per occupare meglio l'area di rigore e non lasciare gli attaccanti isolati. Avere coraggio con i terzini, questo intendo, quindi la partita va vista più in un ambito generale. A livello di personalità dovremmo essere bravi a gestire tutti i dettagli della partita che saranno quelli, sono le piccole cose che fanno la differenza. Quindi è un po' più complesso del fatto di non concedere e tornare a casa ed essere contenti perché non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. No, noi dobbiamo andare a fare la partita, dobbiamo avere personalità, dobbiamo avere coraggio.